Buongiorno, ben trovati, siamo alla loggia dei cavalieri a Treviso, siete al festival di demografia, mi chiamo Luca Tremolada, sono un giornalista del Sole 24 Ore, un data giornalista e oggi è mio onore e piacere parlare di un piano inclinato, parliamo della pubblica amministrazione, del processo di digitalizzazione che sta investendo la pubblica amministrazione e come dicevo è un processo storico, alcune settimane fa il ministro Colau ha presentato quella che è la roadmap della migrazione dell'APA, dei server dell'APA nel cloud, è un processo che io definisco storico anche nella complessità, ricordiamo due date, insomma entro la fine di quest'anno sarà pronto il bando per il polo strategico, nel 2022 quindi insomma si parte e nel 2025 si è parlato di un 75-80% dell'APA completamente sul cloud. Oggi cosa raccontiamo? Oggi racconteremo un po' la tecnologia che c'è dietro ma anche cercheremo di approfondire quelli che potranno essere i nodi da risolvere sul fronte della governance e gli ospiti che ci sono mi aiuteranno in questa operazione non semplice perché abbiamo qui con noi Mauro Miè collegato, Mauro Minenna capo del Dipartimento per la trasformazione digitale che sarà un po' l'organismo che è l'organismo che metterà a terra parte di questo processo, Massimo Fedeli che è il direttore responsabile delle tecnologie e della comunicazione di Istat, alla mia destra qui in presenza questa volta, buongiorno, benvenuto, Vincenzo Caridi che è responsabile della direzione delle tecnologie e dell'innovazione di IMS, Stefano Tommasini in collegamento anche lui da Roma responsabile dei sistemi informativi dell'INA e Andrea Cortelli, country manager di uso, quindi un tecnologo puro diciamo, ecco invece qui alla mia sinistra in presenza. Allora, quindi avete capito abbiamo Istat, IMS, Inali, abbiamo quindi i corpi che poi andranno a collaborare per portare la PA online e anche per fornire dei servizi di nuove generazioni. Adesso è ancora presto per parlare di questo ma invece siamo assolutamente in tempo per provare a sostanziare quella che è stata la roadmap presentata dal Ministro. Se Mauro Minenna mi ascolta, mi sente, io partirei proprio da lui per capire insomma, immagino che siano non giornate, non settimane, ma mesi straordinariamente intensi quelli che sta vivendo il suo dipartimento. Proviamo a spiegare che cosa sta avvenendo e come state operando. Intanto spero mi sentiate bene. Lì è già un ottimo risultato. Allora, diciamo anche delle notti molto intense, stiamo lavorando in modo molto, molto, molto concentrato in una logica che è quella di un'iniziativa di piano, di programma, quella del PNRR che per la parte digitale sul perimetro della pubblica amministrazione mette in campo risorse ingenti. L'intenzione è sicuramente quella che parte, diciamo, sui vari strati dal tema dell'infrastrutturazione, della messa in sicurezza, di quel dato che è un dato importante di una grande quantità di server che hanno bisogno di essere messi in uno spazio sicuro, in un luogo sicuro, in una casa sicura. Però è ben evidente che questo è un elemento abilitante di una strategia che ha un portato, un significato parecchio più ampio. Già da un bel po' di tempo con i colleghi, con gli amici di IMSS, di INAIL, di ISTAT, ma non soltanto perché li ho qui sul palco, in realtà fa parte virtuale, in realtà fa parte di una visione complessiva di sistema delle pubbliche amministrazioni, diciamo, più virtuose, non viene in mente anche informatica che l'Inaus da cui provengo. L'idea di costruire una collaborazione orizzontale per andare a modernizzare i servizi. Io credo che l'argomento, quello su cui più si sta concentrando l'iniziativa di governo, è questo. Noi abbiamo un tema di polo strategico nazionale, che nel modo in cui lo andiamo a declinare in questo momento, è questa infrastruttura. Questo è un, tecnicamente è un buffering, no? Un punto centrale, prego? No, 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 si è bloccato per un secondo, ma adesso è meglio. Bene, un punto centrale di funzionamento della infrastruttura. Però è ben chiaro che le infrastrutture sono un problema non centralissimo. Nel momento in cui ho messo in sicurezza le infrastrutture, quello di cui devo preoccuparmi è costruire quelle situazioni per le quali a un cittadino non debba chiedere, ad esempio, due volte la stessa informazione, con il cosiddetto principio del one's only. Ecco quindi che nell'iniziativa di governo, a fronte di quasi 7 miliardi d'euro sulla trasformazione della pubblica amministrazione, noi abbiamo uno strato che è centrale nella nostra strategia, che è quella dell'interoperabilità dati tra le pubbliche amministrazioni. Ed ecco che il tema del dato diventa un tema cruciale. Qui con l'amico Massimo Federi ci siamo molto interrogati su cosa significhi l'interoperabilità e dobbiamo immaginare di fare un grande sforzo di costruzione di un catalogo dati per il quale se l'amico Caridi ha la disponibilità del dato dell'Isee in IMS e lo espone in un servizio, tutte le amministrazioni che ne abbiano bisogno ne possano fluire. Ecco quindi che la strategia infrastrutturale, che è quella che porta al cloud, chiede la modernizzazione degli applicativi e la modernizzazione degli applicativi si basa sul fatto di avere la possibilità di consumare dati in interoperabilità. L'azione di governo è volta a favorire questo fenomeno. Il polo strategico nazionale, che fa parte di una strategia più ampia di migrazione al cloud, per come è stata annunciata dal ministro Colau il giorno 7, è per certi versi un enzima, un acceleratore, un abilitatore di questi processi, ma lo sforzo più grande è quello che pure sta vedendo molto coese le varie amministrazioni nella costruzione di questo ecosistema integrato. Un ecosistema integrato nel quale il cittadino debba evitare di avere quella che adesso è una spezzatura di processo che sperimentiamo, che è quella canonica. Guardi, il lockdown ci ha insegnato una cosa. Siamo stati in grado di gestire il rapporto con i cittadini a distanza? Direi di sì. Abbiamo però per molti versi rimappato in distanza quelli che erano i nostri abituali modi di lavorare. Cioè fai una prima coda allo sportello virtuale dell'Inps, per esempio, e poi porti l'esito di questo lavoro fatto alla prima coda a una seconda coda, che so io, allo sportello dell'Agenzia dell'Entrata. Questa visione è una visione solo parzialmente digitale, perché non integra orizzontalmente il processo, perché sono le amministrazioni nel loro dietro le quinte, nel loro back office che dovrebbero trasferire le informazioni. Il centro dell'azione del PNRR è questo strato di interoperabilità. Perché tu possa essere interoperabile, devi anche tecnologicamente superare gli steccati tra le infrastrutture e la migrazione al cloud abilita, perché nei momenti in cui decidi che devi containerizzare i tuoi applicativi, devi modernizzarli, devi ripensarli, devi ridistinguere lo strato dei dati e lo strato delle applicazioni, devi capire quali servizi prendere all'esterno, questa riflessione favorisce poi la costruzione di quel tipo di applicativo, per cui gli ingredienti quali sono? Un'infrastruttura sicura, un'applicazione modernizzata, un po' di testa tra le amministrazioni per fare sì che le amministrazioni integrino orizzontalmente il loro lavoro. Mi faccia dire, fa tremare le venni polsi, perché noi passiamo a una enorme disponibilità di fondi per fare questa attività e conseguentemente un gigantesco problema di governance in un contesto normativo che non è stato ancora reso così fluido da rendere semplice l'intera partita. È chiaro che siamo quindi tutti chiamati a uno sforzo enorme. Cos'è che mi lascia ben sperare? Che esistono figure di direttori di sistemi illuminati in alcune amministrazioni? Non poche. C'è una volontà di fare sistema, di fare squadra, perché mi faccia dire, io penso che nessuno dei colleghi ha passioni molto dove l'infrastruttura è. Quello che i colleghi ha passione è avere il know-how, le capacità, le competenze per governare questo grande processo trasformazionale, nel quale una cosa è per certo falsa, che non possiamo semplicemente derogare al nostro compito di tecnologhi all'interno della macchina dello Stato. Anzi, sempre di più la macchina dello Stato richiederà competenze digitali pervasive. È un Paese troppo fatto di avvocati e laureati in materie economiche sulla macchina dello Stato, che non è di per sé una competenza da abbandonare, ma va integrata con una forte visione della trasformazione, perché altrimenti, mi faccia dire, faremo per l'appunto a botte di PEC quello che prima facevamo a botte di documenti firmati e sottoscritti con io, sottoscritto, eccetera, eccetera, giurì, giuretto nel pieno possesso delle mie facoltà, avendo invece una intenzione, che è un'intenzione assai più ampia. Il lavoro che il Ministro ha annunciato su un fronte infrastrutturale, quello che lui chiama questa casa dei dati, con tante stanze variamente sicure, mi faccia dire, è analogicamente quello che abbiamo fatto un po' nelle case di tutti. Abbiamo, non credo che qualcuno di noi, abbiamo avuto dei momenti nelle nostre case infrastrutture in cui ognuno di noi ha avuto le proprie infrastrutture, i propri server, i propri dati. In potenza andiamo a costruire una logica di integrazione. Questa logica di integrazione è quello che abbiamo avviato e che costruiremo evidentemente tutti quanti assieme. Il titolo di questo incontro, Poli Strategici Nazionali, dentro ha questa suggestione. Abbiamo un Polo Strategico Nazionale di infrastruttura, abbiamo tanto know-how diffuso da mettere a fattore comune per costruire questa macchina. E questo know-how è principalmente il combinato disposto di un know-how amministrativo del processo, della capacità di cambiare le teste delle persone tecnologico. Tutti questi ingredienti sono quanto dobbiamo mettere in campo per raggiungere i nostri risultati. Mi fermerei qui per questo primo giro, per raggiungere ovviamente spazio per altri interventi, sperando che poi alla fine vi abbiate sentiti in un modo decoroso. Vi abbiamo sentito benissimo, io però ti terrei subito per una domanda a caldo. Allora, posto che quello su cui stiamo ragionando è un piano inclinato, volendo scegliere tra sicurezza, quindi quando parliamo di sicurezza anche il Ministro Colaro ha parlato di vari livelli di sicurezza del dato, non saranno tutti uguali i dati chiaramente, però nel momento in cui si ragiona su un'APA così ramificata dove i punti di accesso, ragioniamo di hacker, possono essere centinaia se non migliaia, questo può essere un problema. Quindi volendo ragionare su quelle che possono essere gli ostacoli, le difficoltà di un processo di armonizzazione così importante, cosa metteresti in prima linea? Che cos'è che ti preoccupa di più? La sicurezza, i tempi, che questo sono un altro tema centrale, la governance, che come hai detto è ancora abbastanza tutto da costituire, o la cultura della pubblica amministrazione, per cui chi poi andrà a fare data entry, chi poi andrà a lavorare sui software, ad armonizzare. Quali di queste quattro pilastri ti spaventano una parola sbagliata e la cancelliamo, però insomma ti preoccupano? Guarda, forse dovendone scegliere uno, perché sai è un dilemma, è una domanda delle cento pistole, cioè tendenzialmente l'immagine del piano inclinato mi alza l'ansia, quindi come dire, è interessante, e questa mi porta poi a propendere per darti una risposta i tempi. sai, cinque anni in questo contesto qui volano via, abbiamo un progetto di grandissima complessità, però sai, il tempo passa e se nel frattempo non costruisci cultura, e lì ribadisco, la cultura è su varie strade, la cultura del personale tecnico, la cultura del… abbiamo perso, forse. Allora, vediamo poi se riusciamo a… perché poi tra l'altro noi noi giochiamo, però la banda larga è un altro fattore abilitante della digitalizzazione dell'APA e insomma come vedete anche nonostante i grandi potenti mezzi che ci sono in campo non sempre arriva. Allora, prima si parla di tre anni, Istat è cambiata tantissimo anche da un punto di vista di quello che… è importante, dovremmo scegliere una cosa che mi preoccupi, la cosa che sicuramente mi preoccupa è il tema della governance. Quindi ecco, abbiamo… allora, devi sapere che Mauro, ti abbiamo perso… adesso… adesso mi senti? Pronto mi senti? Però provo a… no, è stato… mi sembra che però il microfono sia disattivato, se dalla regia insomma gli dite che abbiamo sentito la parte finale della risposta in cui è stato detto che la preoccupazione sono sicuramente i tempi, provo a riassumere la parte della risposta che abbiamo ascoltato, ma anche la governa, sono una governa che è ancora tutta da costruire. Io passerei a Istat, ho un po' già apparecchiato la domanda. Allora, il vostro compito sarà quello anche qui di mettere a fattore comune il patrimonio di dati e di informazioni che poi può servire, che può essere incrociato per generare tra l'altro servizi di nuova generazione. Cioè, quello che noi non abbiamo ancora capito, ma perché siamo all'inizio di questo processo, è che l'ente nazionale di statistica, insieme agli altri organi dello Stato, può generare anche nuove tipologie di statistiche, un nuovo modo di mappare e di ragionare sul territorio. Voi in che fase siete? Siamo all'inizio in cui ci si cambia le figurine e si dice, allora i nostri dati sono in questa forma, i vostri in quale sono, o siamo in una fase già più avanzata? Allora, intanto grazie per la domanda, veramente mi hai alzato una palla meravigliosa, nel senso che l'Istat ha iniziato già, insomma, l'abbiamo condiviso un pochino prima, già da 3-4 anni tutta un'azione di riorganizzazione, quindi si è partiti anche dall'assetto proprio organizzativo, dalle strutture organizzative dell'Istituto. Nel campo, diciamo, più tecnico, che quindi è in ambito con la tematica di oggi, noi abbiamo praticamente riprogettato le nostre infrastrutture, il nostro CED, quindi abbiamo fatto tutto un percorso di miglioramento dei servizi offerti proprio per avvicinarci e creare quei presupposti per dare dei servizi al cittadino sempre più efficienti, quindi per avvicinarci proprio al cittadino. Noi l'abbiamo già un pochino affrontato ieri, c'è il tema della data governance, della data strategy che va affrontato e Mauro giustamente prima l'ha ricordato, c'è un grande potenziale informativo all'interno dei dati e chiaramente l'Istituto Nazionale di Statistica ha un potenziale enorme, quindi siamo appunto impegnati nel trasformare questo potenziale in un qualcosa di concreto. Il percorso che abbiamo fatto comunque è assolutamente in linea con il percorso che tracciamo a Mauro, nel senso che comunque i rapporti tra le amministrazioni a cui accennava prima il capo di partimento sono dei rapporti che vanno avanti da anni, quindi forse quello di cui abbiamo bisogno in questo momento nel definire questo modello di governance io dico che è anche qualcosa che sia in continuità, sicuramente c'è stato un annuncio importantissimo e siamo tutti quanti veramente felici del fatto che ci sia una governance forte che in qualche modo dà un indirizzo. Bisogna però, già abbiamo avuto modo di condividerlo, dare continuità nell'azione perché come sapete nella pubblica amministrazione i processi vanno avanti per mesi, anni, quindi noi come altre amministrazioni virtuose abbiamo fatto tutta una serie di investimenti proprio per rendere i nostri sistemi, il nostro sistema informativo, un sistema informativo in grado di integrarsi con delle soluzioni esterne, quindi con il cloud, con i servizi cloud esterni. Quindi noi siamo già cloud ready per dirla in modo semplice, quindi non abbiamo difficoltà di integrarci con questo soggetto che è stato annunciato da Colau. Quindi il nostro focus è molto orientato a far parte di questa community di amministrazioni virtuose proprio per creare dei servizi al cittadino che in qualche modo siano cross applicazione, quindi io sono assolutamente d'accordo con l'affermazione di Mauro quando diceva probabilmente la singola amministrazione da sola non riesce a fare quel servizio che il cittadino si aspetta, però se riusciamo a coordinare gli sforzi di tutti invece riusciamo a fare proprio quello che si aspettano loro, quindi il concetto del one solid, il concetto anche dell'interoperabilità dei servizi che si basa comunque su dei dati standardizzati con una semantica che parla alla stessa lingua e via dicendo. Quindi sono tutte delle azioni che vanno coordinate e devo dire che in questo momento quest'operazione di coordinamento viene fatta dal Dipartimento e questa è l'ottima notizia. Noi facciamo parte comunque del gruppo di coordinamento insieme alle amministrazioni presenti e quindi ci vediamo continuamente proprio per costruire questo nuovo modello di governance a cui accennava Mauro. Posso sottolineare un passaggio del tuo intervento? Voi avete detto noi siamo cloud ready, che è una prima cosa forse da smarcare, si è sempre detto no ma la pubblica amministrazione non è ancora pronta per il cloud, in realtà un corpo importante come Istat è già sul cloud e quindi non c'è un tema diciamo di tecnologia di ferro da questo punto di vista. Il problema come hai accennato tu è di semantica, semantica lo traduco insomma in maniera un po' facilona faccio il giornalista, è capire che lingua devono parlare i dati e se si capiscono. Ad oggi la vostra semantica è già pronta, è già una base buona o pensate che debba essere riscritto qualcosa? Noi di più, nel senso che noi facciamo parte del famoso tavolo della data strategy. Allora noi in casa già abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo messo già tutti in ordine, abbiamo creato un sistema dei registri che ottimizza le informazioni che provengono da fonti amministrative, da fonti di indagine, quindi abbiamo ottimizzato i nostri dati, abbiamo smontato i vari silos che seguivano le varie statistiche, diciamo i vari ambiti delle nostre statistiche e li abbiamo rimontati nell'ambito del sistema dei registri. Il sistema dei registri non è altro che un sistema che ha una qualità altissima, sono dati comunque statistici, validati, controllati e che riguardano i vari ambiti, c'è il registro degli individui, il registro delle imprese, quindi i vari settori. Quindi noi questa operazione l'abbiamo fatta, ma non abbiamo fatto solo questo, abbiamo definito anche le ontologie, che è una parola un pochino complessa, però significa che noi abbiamo dato, abbiamo spiegato ognuno di questi campi, cioè quindi il significato di queste informazioni, quindi che cosa intendevamo per individuo, che cosa si intendeva per famiglia, che cosa si intendeva per impresa, quindi abbiamo definito anche la semantica dei nostri dati. Allora questi li abbiamo messi tra l'altro a disposizione della pubblica amministrazione, perché sono già pubblicati nel catalogo delle ontologie di Agit. Il vocabolario è quello che è stato messo in campo, che giustamente non lo poteva che produrre Istat, nel momento in cui si ragiona su un dato quantitativo. Quindi abbiamo definito questo vocabolario e appunto stiamo collaborando, proprio per espandere questo vocabolario a tutti gli ambiti, a tutti i settori del settore pubblico, insomma tutti i temi del settore pubblico. Vincenzo Caridi, allora faccio un po' la stessa domanda che ho fatto a Mauro, volendo scegliere uno dei passaggi, posto che gli anni sono pochi, sono oggettivamente pochi. Io di formazione sono un tecnologo, di giornalista di tecnologia e quando parlo con gli americani, poi avremo modo di tornare sugli americani, mi dicono ma insomma in questo tempo sarebbero dei campioni di riuscire a portare a casa un processo di cui sta portata. Ecco, dal tuo punto di vista, da dove sei seduto tu oggi, che cos'è che è pronto, che cos'è invece da mettere a fattore comune e che cosa ti preoccupa? Beh, intanto se mi sentite, perché la linea è un po' disturbata quando parlate dal... Sentiamo perfettamente. Perfetto, buon pomeriggio. Cosa ci preoccupa? Intanto dico cosa non ci preoccupa, nel senso che quello che è stato presentato dal ministro Colau, Claudio Italia, è ben chiaro che il principio che l'IT sarà vincente solamente se riusciamo a consolidare gli investimenti tecnologici e si dice l'interoperabilità, no? Abbattere i muri, costruire ponti tra le FIA, sono concetti che la presentazione del Cloud Italia ha portato, diciamo, all'attenzione ma era un principio da sempre chiaro nell'IT. Noi come INSS abbiamo, dal 2014, siamo l'unico ente che ha tre data center proprietari con Business Continuity e un disaster recovery geografico. Nella nostra storia, noi abbiamo oltre 120 anni di storia come INSS, la nostra capacità infrastrutturale ha tenuto conto delle tante attività che nel tempo l'IMSS ha dovuto svolgere, no? Non pott'altro per l'integrazione degli enti o l'emergenza del 2020. Quindi il sistema infrastrutturale dell'IMSS era ed è scalabile. È ovvio che il Cloud ci consentirà di rispondere meglio alle esigenze della società in maniera molto più scalabile e con tempi ridottissimi. Noi ce la mettiamo tutta per essere pronti, perché abbiamo intrapreso nel 2019 un percorso di certificazione, proprio per mantenere e migliorare i standard che abbiamo avuto. Naturalmente questo non basta. La filosofia dei poli strategici nazionali, il titolo parla appunto di, è un plurale, va ben oltre, diciamo. E naturalmente l'IMSS è consapevole di questo sistema Cloud in Italia e si è messo già a lavoro il rapporto che c'è con il capodipartimento, Mauro Minenna, è continuo e già stiamo cercando di capire quali sono i servizi che possiamo portare in dote nel progetto Cloud Italia. Insomma, il sistema informativo non può essere più considerato un deposito statico di dati e servizi. Tu prima facevi, hai fatto una domanda a Mauro, quali sono gli aspetti più critici che ti preoccupano, se governance, se sicurezza, se cultura. Ecco, al di là della sicurezza, che naturalmente deve, il tema sicurezza è un tema spostante, è un tema dove nessuno si può sentire davvero al sicuro perché lo sviluppo di sistemi di hackeraggio è continuo. Però non si tratta sostanzialmente di mettersi al riparo, diciamo, di data breach o di non pagare riscatti nel dark web. Io credo che ci sia molto di più, direi che sono in gioco i diritti e la libertà che devono essere tutelati, non dal singolo ente, se non dall'Inps, ma dal sistema paese, se non europeo. E rispetto a questo discorso, diciamo, della sicurezza, quindi io lo legherei proprio alla cultura. Ecco, l'aspetto critico, a mia parere, è proprio la cultura. Perché è vero, il cloud ci abituirà a fare servizi, di abituarci sempre a una pubblica amministrazione a portata di click, no? Però poi se il click nasconde i processi analogici e la trasformazione tecnologica, di per sé non può essere innovazione, come dico sempre, ma perché? Perché c'è la necessità di una trasformazione non solo del processo, ma anche culturale. A mio parere, diciamo, grazie al cloud, l'APA, più che trasformarsi in un'APA a portata di click, si farà servizi esplodendo il concetto della prossimità. Cioè i servizi digitali, che di solito sono servizi che sono considerati impersonali, grazie al cloud possono essere servizi invece che per eccellenza, più prossimi all'utenza. Perché il cittadino, dovunque esso sia, o nello sportello digitale dell'istituto, nello sportello fisico dell'istituto, nel contact center dell'istituto, o nel portale, comunque deve avere diritto ad un servizio digitale che risponda alle aspettative che ha. Stavo dicendo che noi abbiamo già avuto contatti con il Dipartimento di Trasformazione Digitale per capire quali sono i servizi che possiamo già migrare. Vorrei ricordare soltanto che il sistema informativo dell'istituto, proprio per la storia che ha di oltre 120 anni, è ovvio che sono caratterizzati da molteplici livelli di complessità, al di là di un livello applicativo sicuramente costituito da software certificato, noi comunque dobbiamo garantire una funzionità operativa di servizi, H24, 7 giorni su 7, e dobbiamo essere capaci sempre di più, ma la pandemia ci ha dato davvero una grande spinta, a essere tempestivi nel ricepire gli adeguamenti normativi che ci piovono come istituto. Direi che quindi se l'aspetto più critico è proprio quello legato alla cultura, perché la cultura si trascina anche la necessità di avere sistemi sicuri e anche perché la comprensa tecnologica sicuramente è l'ossatura, però tutto il resto lo fanno gli uomini, le idee, le competenze, la circolarità delle informazioni. Credi appena detto che quindi voi siete già in una fase in cui state ragionando su quali servizi far migrare, per cui insomma qualcosa è già pronto, quanto c'è ancora da riscrivere invece, riscrivere, passatemi il termine, da armonizzare, da omogeneizzare all'interno della vostra struttura? Noi abbiamo intrapreso nel 2020 un grande processo di trasformazione proprio digitale. I nostri organi hanno approvato due piani, uno che abbiamo chiamato piano di trasformazione digitale e l'altro naturalmente il piano ICT. questi due piani si portano dietro dei modelli, un modello che prevede dei progetti per la continuità del business, quindi per garantire i servizi ai cittadini, ma anche dei progetti per garantire un modello di forte innovazione. Stiamo riscrivendo moltissimi processi, perché non stiamo riscrivendo, come dicevo prima, non si tratta soltanto di sostituire una tecnologia con una tecnologia più nuova, stiamo riscrivendo i processi dei nostri servizi e la spinta del piano nazionale di ripresa e resilienza è una grande occasione, perché IMSS, come tante altre amministrazioni grandi centrali, è destinatario di finanziamenti diretti da parte del piano nazionale, del PNRR, e uno dei progetti approvati prevede proprio la trasformazione, uno del portale, quindi la trasformazione del nostro portale dell'Istituto, e l'altro progetto riguarda proprio la riprogettazione di 70 servizi in digitale. Quindi ci stiamo lavorando raccamente dal 2020, proprio nelle logiche di, al di là diciamo delle tecnologie, dello sviluppo in DevOps, si parlava di containerizzare i servizi, ma proprio anche facendo conto di un cambio di approccio culturale, quindi è un processo di change management che coinvolge non soltanto l'informatica, ma tutta l'organizzazione dell'ente. Grazie. Stefano Tommasini, allora anche per te e anche per lei la stessa domanda, insomma, quali di questi aspetti la preoccupa di più e dove invece si sente di essere confidente già nell'anticiparci, magari alcuni servizi che possono essere già pronti per la migrazione e perché no, magari anche qualche idea che vi siete fatto di possibili sinergie o di possibili servizi al cittadino che potrebbero arrivare. Sì, abbiamo sentito un pochino a tratti la domanda, però immagino qual è l'aspetto che un pochino ci, ma non direi preoccupa, sotto attenzione senza dubbio il tema della governance, perché veniamo da strategie pensate in luoghi diversi, quindi è evidente che dobbiamo molto orientarci secondo quella che è la strategia del Cloud Italia. Noi abbiamo atteso con grande attenzione, con grande interesse la strategia che il Ministro Culao ha illustrato il 7 settembre, è quasi ormai una linea di demarcazione tra il prima e il dopo. Quindi il tema della governance, se vogliamo, è l'aspetto che in questa prima fase dovrà essere tenuto sotto attenzione. Noi siamo convinti che in questi prossimi mesi, in questi prossimi anni, si riusciranno a fare delle ottime cose. È chiaro che questo deve essere frutto di una fase, di un approccio legato al consolidamento non soltanto delle infrastrutture, ma soprattutto un riorientamento della cultura di tutte le amministrazioni pubbliche molto più aperte. Quindi il tema open non lo possiamo limitare ai dati, non lo possiamo limitare ai sistemi, ma lo dobbiamo anche allargare al tema delle menti, delle teste un pochino a cui Mauro Minenna faceva riferimento prima. Poi Inail ha iniziato questo percorso già da un pochino di tempo, perché già dal piano triennale del 2014, che in coerenza con quelle che erano le circolari e le linee di indirizzo dell'Agida, ha avviato un processo di trasformazione digitale. Quindi da questo punto di vista, dopo essere intervenuti sulla componente infrastrutturale, che però noi riteniamo adesso in questa fase esclusivamente una commodity, quindi è stata un abilitatore al processo di modernizzazione delle applicazioni dell'Inail. Noi appunto già abbiamo diversi servizi, il portale sul cloud pubblico, quindi gestiamo anche alcune applicazioni, alcuni servizi a carattere stagionale, che quindi hanno nel cloud la loro naturale destinazione, anche per il volume di accessi che in quel determinato momento, in quei determinati secondi si determinano, e abbiamo avviato già da tempo un processo di modernizzazione, di containerizzazione delle nostre applicazioni, anche chiaramente attraverso il decommissioning del mainframe, che abbiamo chiuso appunto lo scorso anno, che abbiamo completato lo scorso anno, tutto questo percorso senza dubbio, cioè abilita l'Inail a considerare la propria infrastruttura come esclusivamente abilitante la modernizzazione dei servizi. In un'altra occasione con Mauro Minen avevo detto che noi possiamo anche dare le chiavi del nostro data center a chi prenderà in carico il cloud della via, perché poi alla fine a noi interessa esclusivamente poter governare i servizi infrastrutturali e non certo l'infrastruttura nel suo complesso. Noi credo che la strategia cloud del dipartimento, del ministro Colau, sia portata in questo senso, quindi come Inail siamo convinti che questo percorso, speriamo che appunto dal punto di vista della tempistica, non sia troppo lungo, siamo convinti che questo faciliterà e ci porterà tutti quanti verso una situazione di maggiore sicurezza, sulla maggiore condivisione dei dati e sulla condivisione dei servizi. Credo che poi dati e servizi all'utenza siano l'aspetto primario che deve coinvolgere le teste delle organizzazioni e ripeto appunto organizzazioni che appoggiando sul cloud poi possano appunto avere un'apertura trasversale tra loro in favore appunto avendo a questo punto l'utente come al centro dei propri servizi. Quindi credo, un po' per sintetizzare, credo che l'aspetto, diciamo, i temi di sicurezza, tempo, tempi, governance siano ingredienti indispensabili da tenere sotto controllo in questa fase che assumeranno priorità e attenzioni diverse nel volgere di questo processo. Senza dubbio l'aspetto governance anche per non disperdere le energie e gli investimenti fatti a sino ad ora e investimenti che non sono solo di carattere infrastrutturale anzi li considero tutto sommato secondari investimenti sui processi delle organizzazioni sulla cultura, sull'approccio diverso da parte delle persone dell'IT che hanno dovuto ridefinire i loro parametri quindi approcciando al sistema informativo come unico e non, come sappiamo, composto da tanti silos. E questo non si fa solo con il cloud, si fa soltanto con un percorso lungo di riorientamento delle persone facendo anche percepire il valore che appunto l'apertura, la condivisione dei dati e la visione utente centrico possono votare. Tomasini, mi faccia capire, visto che il nodo della governance è un po' il filo rouge dei vostri interventi finora, nel senso che avete giustamente detto guardate, non c'è un problema tecnologico perché siamo già partiti con una discesa, diciamo, verso il cloud anche se il cloud dovrebbe essere una salita. Siamo anche pronti sugli standard, siamo pronti sui dati, c'è un tema di cultura ma quello dipende fino a un certo punto da voi, la governance è qualcosa a cui mettere mano. Secondo lei c'è un tempo preciso di questo processo perché noi adesso siamo all'inizio, abbiamo questi cinque anni su cui lavorare, quando è che va affrontato il tema della governance? C'è un momento preciso o dobbiamo prima essere tutti compliance come dicono i tecnologi e dopo si ragiona sulla governance? Chiaramente ho fatto una domanda mezza ritorica perché anch'io so la risposta, però vorrei che lo spiegaste voi. Sì, credo che la governance sia da definire nell'immediato perché poi i processi in qualche modo debbono essere corrispondenti, quindi anche il processo di trasformazione deve essere corrispondente a quella che è la governance che viene definita. Mi preme però evidenziare un fatto che appunto nell'andare a ridefinire la governance, tenere presente quelli che sono i percorsi evolutivi avviate da alcune amministrazioni anche di grandi dimensioni che hanno visto nella condivisione non solo delle infrastrutture ma anche dei servizi. Per questo io ricordo sempre che nei sistemi dell'INAIL ci sono tutte le applicazioni del Ministero della Salute e questo non soltanto come un tema infrastrutturale ma quello che è stato quello che si è avviato con il Ministero della Salute è proprio un percorso di trasformazione e quindi di condivisione di esperienze che un'amministrazione che magari è partita prima può appunto condividere con le altre e questo chiaramente può essere fatto da più di un'amministrazione. Quindi noi contiamo che questo qui il processo di trasformazione non è un processo esclusivamente tecnologico è un processo che coinvolge prima di tutto una visione la visione appunto deve essere in qualche modo definita centralmente perché però abbia la capacità di capire quali sono le potenzialità e i valori che sono stati generati dalle altre organizzazioni. Quindi ripeto la governance prima di tutto una governanza che sappia fare perno sulle potenzialità e sulle capacità che alcune amministrazioni sono in grado di esprimere e anche come facilitatori appunto per il cloud pubblico. Noi siamo convinti e qui ci sono appunto tre amministrazioni che sono molto convinte di questo di questo tema che mettere assieme le esperienze e fare sinergia rappresenti anche un grande valore un grande volano di accelerazione per il cloud Italia perché se IMSS Istat e Dineil possono fare determinati percorsi assieme vuol dire che si può fare perché le nostre sono oggettivamente organizzazioni diverse e anche molto complesse. Allora grazie se torniamo sul palco alla mia sinistra abbiamo Andrea Cortelli che è country manager di Uso un'azienda tedesca di un'anzi più importante un tra i più importanti fornitori di software europei. Allora noi abbiamo capito un po' quali sono i nodi da sciogliere a livello di gangli della pubblica amministrazione come prima ci raccontavamo prima di andare in onda. da un punto di vista tecnologico il fatto di essere un attore europeo vi sta facilitando nel processo di dialogo nei confronti della pubblica amministrazione ma anche dei soggetti nazionali? Buon pomeriggio a tutti e sì sicuramente l'essere europeo non può che facilitare io volevo prima ricollegare all'intervento che abbiamo avuto Ministro Giovannini è stata fatta la domanda se quest'anno l'Italia veramente raggiungerà l'obiettivo di crescita del 6% e lui ha detto di sì quindi la cosa volevo sottolineare è che la ripartenza di fatto è stata stiamo ripartendo questo significa prima di tutto quindi in questa fase di ripartenza ovviamente il piano che ho accennato con sesso è fondamentale perché è parte salto ok allora cambiamo tecnologia io direi meglio almeno qui in sala sentiamo sicuramente meglio vediamo anche se da molto bene allora riprendo da capo uso azienda europea quindi il fatto di essere europeo beh innanzitutto tutte le normative in termini di GDPR noi le abbiamo in maniera naturale cioè le nostre soluzioni in ambito enterprise service management ovviamente sono già in piena sintonia con tutte le normative europee perché siamo un prodotto europeo questo ci porta sicuramente un punto di vantaggio è chiaro che quello che recitava l'articolo no delle 24 ore nell'intervista che abbiamo avuto a inizio dell'anno ci presentava proprio come USU l'azienda numero uno in Europa in ambito enterprise service management quindi questo significa che l'essere europeo è una sfida sicuramente sì perché noi spesso ci ritroviamo ad essere delle specie di highlander contro questi colossi americani però credo che questa opportunità di digitalizzazione pubblica amministrazione sia anche una grande sfida per tutte le aziende europee anche aziende italiane deve essere un'opportunità di crescita delle aziende italiane che sono nostri partner sul mercato italiano e che da anni consolidano diversi servizi è chiaro che il nostro sogno è proprio quello di un di un cloud dove c'è una sorta di marketplace dove i servizi che si basano sulle nostre tecnologie uno fa un click e può renderli utili e utilizzabili questo ovviamente è possibile diciamo un altro collegandomi a un altro intervento che c'è stato qui al talk precedente di stamattina dove c'erano i rettori si è citato Marchionne si è detto che esiste un mondo dove le persone lasciano le cose che accadano poi ci sono le persone che le cose le fanno io credo che in questo consenso abbiamo sicuramente le persone che le cose le vogliono fare e collegandomi ai tuoi gangli il problema è esattamente è stata citata più volte la governance è lì il discorso uno le cose le vuole fare però rimaniamo in un contesto pubblico amministrazione dove c'è una assimmetria culturale perché ovviamente ci sono luoghi dove le tecnologie la cultura tecnologica è già avanzata ci sono luoghi dove è molto arretrato credo che Mauro abbia sicuramente ben chiaro questo problema ogni giorno si scontri con questa e si c'è poi un problema di risorse perché è un dato di fatto che le risorse tecnologiche nelle pubbliche amministrazione non sono poi così tante ed è chiaro che se un manager della pubblica amministrazione vuole dotarsi e vuole assumere le persone questo non lo può fare queste sono le grandi scommesse per le persone che vogliono fare e implementare questo sistema sottolineando devo dirlo la parola europea l'ho fatto apposta per cercare di provocarla cioè c'è un siccome si è parlato a lungo di cloud nazionale versus il cloud californiano no? quanto noi i grandi multinazionali d'oltreoceano c'è anche in questo caso soprattutto nel momento in cui si dialoga con l'api quindi con dati super sensibili un piano geopolitico diciamo cioè chi produce le tecnologie in Europa e chi produce le tecnologie oltre oltre oceano ma noi facciamo spesso l'esempio del razzi arianna o dell'airbus cioè il giorno in cui l'Europa ha deciso di dotarsi di tecnologie un determinato settore l'ha fatto e c'è riuscita penso che nell'ambito del cloud forse abbiamo un'opportunità per noi europei dotarci dei nostri sistemi e creare la nostra autonomia proprio nell'ottica di garantire la sicurezza e di avere un cloud europeo nel quale ovviamente verranno inseriti i vari cloud nazionali vi compreso il cloud italiano allora noi siamo agli sgoccioli però abbiamo tempo per una risposta flash su una una piccola provocazione che vi vi presento insomma è stato detto che l'Italia è sempre stata da un certo punto di vista negli ultimi anni fuori dai grandi attacchi dai grandi cyber attacchi nazionali internazionali perché diciamo c'è un basso livello di digitalizzazione per cui non ci hanno attaccato banalmente perché siamo poco digitali allora quello che possiamo aspettarci a questo punto è un processo di fortissima crescita digitale ed è insomma di un mese fa i fatti che hanno colpito la regione Lazio allora nel momento in cui voi state progettando organizzando mettendo a terra questo processo quanto il retro pensiero di attenzione adesso forse diventiamo ancora più vulnerabili posto che poi è tutto da capire quale possa essere l'interesse di un hacker a colpire l'istat piuttosto che altri alcune cose sono più chiare ma altri dipartimenti sono meno chiari ecco avete un un retro pensiero su questo su questo timore su questo scenario pensate che aumenteranno i tentativi di violazione partirei con Mauro io faccio una considerazione credo che nell'esperienza dei colleghi nella mia c'è che noi abbiamo comunque sventato una marea di attacchi se chiedi a Stefano a Vincenzo e sui colleghi della cyber security interna sui loro sistemi di monitoraggio penso che noi sventiamo decine di attacchi ogni giorno quantità importanti di attacchi di DOS quindi abbiamo comunque una pressione esterna perché sì direi che la provocazione del non siamo mai stati attaccati perché stavamo all'età della pietra e una provocazione per tale la prendo sicuramente questo momento trasformazionale si presta ad atti dimostrativi qualche atto dimostrativo può essere interessante sai così come ci sono momenti di frustrazione che portano col dito a scrivere su una nuvola il megadirettore come ricorderai un fantozi qualche tempo fa la stessa intenzione dimostrativa penso possa esserci intrinsecamente non vedo un problema di aumento del problema di cyber security abbiamo sicuramente un altro tipo di attacchi da cui dobbiamo guardarci sai l'attacco in regione Lazio è un attacco che è stato anche legato a un contesto molto specifico che è quello pandemico che è quello di uno smart working telelavoro montato su in urgenza in emergenza sono un paese che per alcuni versi si stava anche un po' lambiccando e guardandosi un po' l'ombelico sul tema dello smart working e che poi anzi devo dirti i colleghi sono stati anche bravi e tempestivi a fare in modo che le macchine sopravvivessero di fronte a una scena nel quale l'8 marzo sera del 2020 si stava ancora nell'incertezza esistenziale di cosa diavolo fare il 9 di marzo del 2020 si è detto tutti a casa dopodiché come diceva qualche tempo fa un famoso comico romano vi accetè cioè ci sono una serie di elementi di contesto la preoccupazione per la sicurezza è una preoccupazione enorme il tema il fatto che il governo abbia avuto intenzione di creare uno specifico soggetto per la gestione della cibersicurezza e che quel soggetto abbia presentato con noi il piano la dice lunga sul fatto che stiamo estremamente preoccupati quel tipo di vigilanza non si è mai abbassato e dobbiamo continuare a tenerla alta grazie qualcuno vuole raggiungere siamo proprio in chiusura anzi giusto un'altra persona condivido quello quanto diceva Mauro nelle nostre organizzazioni il tema della sicurezza al pari di quello della privacy direi in questi ultimi anni non in questi ultimi giorni è stata sempre al centro dell'attenzione e soprattutto tra i fattori più di vulnerabilità abbiamo senza dubbio il fattore umano il fattore umano che non risiede soltanto nell'utenza risiede anche in coloro che sviluppano i nostri servizi quindi e spesso diciamo questi problemi di sicurezza sono stati concentrati su delle disattenzioni su delle superficialità determinate appunto da chi ha sviluppato o da chi gestisce i sistemi innalzare il livello di sicurezza anche nei comportamenti credo che sia un aspetto fondamentale e si sta andando anche in quel senso quindi senza dubbio la sicurezza è l'aspetto primario che dobbiamo tenere sotto controllo però non è diciamo non cambia non è cambiato molto da quello che c'era prima perché appunto bene o male siamo abituati ad avere centinaia di tentativi di attacco in determinati periodi dell'anno siamo sotto pressione lo sappiamo però l'integrazione anche tra i diversi soggetti tra il CLEIPIC l'agenzia noi diciamo c'è ormai una rete tra amministrazioni c'è una rete che in qualche modo ci mette in allerta in allerta prima e ci consente anche di anticipare eventuali situazioni di crisi che potrebbero determinarsi mafio aspetta che forse c'è un microfono basso vediamo eccolo qua no vabbè una battura velocissima per chiudere il tema della sicurezza riguarda anche un tema culturale abbiamo un po' detto gli atteggiamenti delle persone che non sono poi in alcuni casi nell'ambito delle direzioni informatiche quindi anche i colleghi quindi tutti quanti dobbiamo avere questa cultura della sicurezza ma c'è un tema anche non so dove mi sentite Mauro c'è un tema anche di governance della sicurezza quindi c'è un tema perché diciamo la parte IT è solo la punta dell'iceberg perché molto spesso prima di arrivare ad avere un incidente di sicurezza c'è tutta una valutazione di impatto c'è una una conoscenza approfondita di quali sono questi dati che vengono trattati all'interno di un processo amministrativo quindi c'è un tema anche di valutazione a monte che in qualche modo viene prima ancora della realizzazione di quelle che sono le contromisure poi da mettere in campo nell'ambito IT quindi è tutto un percorso prima Mauro l'ha accennato all'agenzia sulla cyber security c'era Baldoni il direttore appena nominato a fianco appunto a Mauro e al ministro proprio perché in questo annuncio si è data molta importanza a questo aspetto della cyber security e della sicurezza allora io chiudo con una considerazione insomma io da quando ho i pantaloni corti che scrivo il solito articolo sull'APA e sui ritardi dell'APA utilizzando i vari indicatori europei devo dire che questo è un momento professionale molto più interessante innanzitutto perché vedo finalmente gli attori che partecipano a questo processo di trasformazione digitale allo stesso tavolo e che guardano tutti nella stessa direzione e questo è diciamo una sensazione che mi dà molto coraggio e credo che sono anche contento che ISTA li abbia riuniti oggi perché questo forse è anche il modo per me di scrivere un articolo un po' diverso da quello che ho sempre fatto in questi anni non meno semplice attenzione io le criticità le vedo tutti però sicuramente più affascinante di quello che succedeva 4 o 5 anni fa per cui io vi ringrazio ringrazio i relatori di essere stati con me restate qui perché il festival degli statistica e demografia continua tra un quarto d'ora se non sbaglio con un nuovo appuntamento grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti